Per Giallo Carta, i sei migliori colpi, Gambetto di Donna, un racconto di Fabio Sparapani, legge Luca Violini. Il campanello del portoncino suonò alle 21 e 35 spaccate. Gianni era sempre stato di una precisione maniacale agli appuntamenti. Bruno fece scattare il pulsante di apertura e socchiuse la porta di casa, attendendo sull'uscio. «Entra, entra pure!» gli fece dal salotto, quando lo sentì pulirsi i piedi sullo stuojino all'ingresso. «Ciao Bruno, sono in ritardo!» «Ma che dici? Puntualissimo, come sempre! Accomodati!» gli disse raggiungendolo. «C'è un nebbione che non ti dico. Beh, è la stagione. Sarà, ma non se ne può più di questa umidità. Sei venuto a piedi?» «Mi prendi in giro?» «Certo che sono venuto a piedi. Ti sei scordato che abito a cento metri da qui. Hai incontrato qualcuno per strada?» «Ma se non ci si vede da qui a lì, ho approfittato di questi minuti perché c'è l'intervallo. Tra un po' inizierà il secondo tempo della partita.» «No, non preoccuparti. Ci sbrighiamo in fretta. Non ti offro da bere perché immagino che avrai i minuti contati, giusto? Per carità, ho una fretta del diavolo.» «Marta, non c'è?» «No, dormirà da sua zia Clotilde, che non si sente tanto bene. In realtà sta benissimo, ma ogni tanto vuole la nipote con sé. Ormai l'è rimasta solo lei. Eh, lo capisco. Ha una certa età.» «Ti faccio vedere subito la sorpresina. Quella macchia di umidità di cui mi dicevi al telefono, giusto? Eh, già. Scusa se disturbo sempre te, ma mi fido solo del tuo parere. Ovviamente ti pagherò per quello che dovrai fare. Ma fammi il piacere. No, no, non discutiamo su questo. Altrimenti mi rivolgo a un altro imbianchino. Dai, fammi vedere questa benedetta macchia, così ci sbrighiamo e posso tornare a casa per il secondo tempo.» «Hai visto? L'arbitro non ci ha dato un rigore grosso come una casa. Ma sì, a chi lo dico? Tu non sai nemmeno se un pallone rimbalza o no.» E fece per sbottonarsi il giaccone. «Non perdere tempo a toglierti il giaccone. Vedrai, sarà questione di un attimo.» Bruno si diresse verso il bagno seguito dal suo amico e accese la luce indicandogli un punto in alto proprio sopra la tazza del water. «Ecco, lassù, la vedi? No, non vedo niente. Sembrerebbe tutto a posto.» Fece agguzzando lo sguardo per controllare il punto che l'amico gli indicava col dito. «Magari la vedi meglio se ti giri verso di me.» «Perché dovrei girarmi verso di te se mi dici che la macchia è lassù?» Lo rimbeccò ridendo. Si voltò verso il suo amico e rimase con una specie di sorriso anche dopo l'affitta che sentì al cuore. Bruno lo sorresse col braccio sinistro, adagiandolo per terra. Nella destra aveva ancora stretta la rivoltella con cui aveva fatto fuoco a bruciapelo. Tolse il silenziatore e se lo mise in tasca, sempre tenendo sulle mani i guanti di plastica trasparente che si era infilato velocemente mentre Gianni guardava il soffitto alla ricerca della macchia. «Avevi ragione tu, Gianni! Non c'è nessuna macchia!» mormorò sottovoce. «E da adesso non ci sei più neanche tu.» «Scusami se ti ho sparato. Ti assicuro che nonostante le apparenze siano contro di me, non c'è niente di personale. Ma sei sempre stato così ostinato a non voler capire.» «Capire cosa? Giusto, una spiegazione te la devo. Ormai non credo ti dispiacerà sapere che io e Chiara siamo... beh, avrei capito, no?» Continuava a sussurrare mentre tamponava la ferita piccola e netta con della carta igienica. «Adesso rimane solo il problema di Marta, ma quello lo risolverò a breve con l'aiuto di tua moglie. Sappiamo già come fare, ma permettimi di non anticiparti il modo. Lo vedrai. O forse non lo vedrai. Non so come funziona nell'aldilà, se mai esiste. Anzi, a questo proposito, se vuoi darmi informazioni, con tutta calma si intende, le accetterò volentieri. Ma senza fretta, come ti dicevo. Non c'è più fretta ormai. Almeno per te.» Gettò nel water la carta igienica insanguinata e tirò la catena, controllando che non ci fossero residui di sangue agli urli della tazza. «Adesso, vecchio mio, diamo un'occhiata per vedere se qui è tutto a posto. Prosegui sempre sotto voce. Allora, vediamo un po'. Beh, sembra sia tutto in ordine. «Sì, abbiamo proprio fatto un lavoro pulito. Sei morto molto bene, lasciatelo dire. Non hai sporcato, non un grido, sei caduto dritto. Oddio, anch'io ho avuto la mia parte di merito, non lo nego, ma tu sei stato un morto perfetto. Davvero bravo.» «D'Arnesto, devo riconoscere che ti sei sempre comportato bene. Discreto, leale, onesto. Un po' noioso, forse. Intendiamoci, questo lo dice tua moglie, perché a me sei sempre andato bene così com'eri. Ma sai come sono fatte le donne? Trovano sempre qualcosa che non va. È il loro difetto. E qualcuno sostiene sia anche il loro fascino. Come dici? Ti dispiace? Ma no. Adesso magari non riesci a comprenderlo. Ma guarda che alla fine ti ho fatto un favore. Perché? Ascoltami bene. Sei morto a 40 anni. Non hai mai avuto grossi problemi. Mai stato ricoverato in ospedale, né sul lutto di particolare gravità. Tua moglie seguirà affrante il feretro. E aggiungo che la mia corona di fiori sarà bellissima, anche perché te la meriti. Ti ho risparmiato un sacco di fastidi e di dolori. Tutti quelli che inevitabilmente sarebbero venuti con l'età. La prevedibile morte dei tuoi amatissimi genitori, le incomprensioni con Chiara, gli esami alla prostata e via dicendo. Alla fine sei morto sorridendo e credo che non te ne sei neanche accorto. Forse una piccatina al cuore per un secondo. Ma cosa vuoi che sia rispetto a quelle lunghe e inutili agonie che toccano a tanti? Credimi, caro Gianni, ti ho fatto davvero un favore. Comunque non mi devi niente. Siamo o non siamo, amici? Sì, perché comunque sia, tu sei morto da amico, che ti piaccia o no. Come? Vuoi sapere che ne farò di te? Beh, faremo un piccolo viaggio, niente di che. Non sarà un viaggio per cui occorre la valigia. Saranno sì e no sette chilometri in tutto tra andate e ritorno. Dove? Ah, mi deludi. Purtroppo hai sempre avuto poca fantasia. In campagna, no? Nella tua casetta in campagna. E quando imbiancavi, io e Chiara ci vedevamo lì. Oh, mica sempre. Anch'io è il mio lavoro. Ci siamo visti lì qualche volta. Adesso vado a prendere un grosso sacco di iuta che avevo preparato. Ti ci metto dentro e ti carico nel bagagliaio della mia auto, che se ne sta bella pronta in garage. Prendiamo l'ascensore di casa. Nessuno ci vedrà. Te l'ho sempre detto che è una comodità abitare in una villetta unifamiliare. Ho proprio fatto un buon affare ad acquistarla due mesi fa. Devo dare atto a Chiara che il suo si è rivelato un ottimo consiglio. Pensa che anche Marta non ha fiatato. E sì che pure lei non è un tipo che non critichi. Ma sai, quando una cosa è fatta bene, c'è poco da discutere. Andò a prendere il sacco di iuta e ci infilò l'amico. Un tocco sul pulsante dell'ascensore e dopo una brevissima discesa, Gianni fu sistemato nel portabagagli del SUV di Bruno. E tu non devi pensare a niente. Faccio tutto io. Riprese a parlare Bruno, quasi masticando le parole fra i denti. Ti porto alla tua amata casetta, ma non entro con l'auto. Sai, non vorrei lasciare le impronte delle gomme sul fango. Ti sistemo sul lato nascosto della casa e ti lascio lì con la tua rivoltella in mano. Perché è la tua, sai. Chiara ha insistito tanto per farmela provare. Non credo che patirai il freddo. Se la serata è umida, lo ammetto, ma non mi pare fredda. E poi questa pioggerellina è così romantica, non ti pare? Ti troveranno quando ti troveranno. Presto, credo. Probabilmente già domani. Ti sei suicidato, Gianni. Ma sì, suicidato. Non ricordi? Il motivo. E chi può dirlo? Problemi di lavoro, familiari, di salute, una depressione. Ecco, sì, una depressione. Ti va? Anche perché, guarda caso, è da un po' di tempo che Chiara ne sta parlando. Lo fa con me, ma anche con Marta, sai. Non credo ti dispiace. Marta è una donna di rara discrezione, questo me lo concederai. Ed è molto preoccupata per questa cosa. Allora, suicidato, va bene? Se non obbietti nulla, ti sarai suicidato. Niente da dire? Conto fino a tre, eh? Uno, due, tre. E allora vada per il suicidio. Hai scelto bene, se posso permettermi. È una fine nobile da signori. Lasci sempre un dubbio in tutti. Sarà stato anche per causa mia? Ognuno si sente in qualche modo responsabile. Non si azzarderà mai a criticarti, almeno in pubblico. E poi quanti illustri i precedenti. Eh, lasciatelo dire, vecchio mio. Farai un figurone. Sei stato furbo. Una vita da imbianchino e una di partita alla Pavese o alla Hemingway. Non credo tu abbia mai letto qualcosa di diverso dalla Gazzetta dello Sport. Ma sappi che, per questo tipo di fine, più di uno ti nominerà accostando il tuo nome a loro. Che ci guadagni? E me lo chiedi. Rispetto alla vita che hai passato, semplicemente tutto. Capisci? Tutto. Alla fine mi sa che in questa storia sarai l'unico ad uscirne bene e senza doverti preoccupare di nulla. Intanto era arrivato a destinazione. La casetta era appena sopra l'abitato cittadino, seguendo sempre la strada asfaltata. Accostò il sub in una rientranza della strada, appena oltre l'ingresso, e si infilò sulle scarpe delle galosce in plastica prima di scendere. Aprì il cancello con le seconde chiavi, diventate ormai le terze, che Chiara gli aveva consegnato di nascosto quella stessa mattina, dato che lavoravano insieme nel suo studio di ingegnere. Nessuno passava in quella notte nebbiosa. Di lontano poteva percepire qua e là i boati che provenivano da alcune case. La partita doveva essere davvero interessante. Gli saltò in mente che se avesse dovuto organizzare un colpo di Stato in Italia, lo avrebbe effettuato durante un turno infrasettimanale di Coppa. Trascinò senza problemi il sacco sul lato nascosto della casa e sistemò il corpo di Gianni per terra, non senza avergli prima appiggiato le scarpe sul terreno, in modo da sporcarle della terra umida del prato. Sempre con le mani avvolte dai guanti di plastica trasparente, pulì con un panno la rivoltella e, presa la mano destra del morto, la strinse ad impugnare l'arma come se dovesse sparare. Infine lasciò l'arma che scivolò lentamente di lato e si accertò che il morto avesse con sé le chiavi della casa. Le aveva, come sempre, infilate nel portachiavi che teneva in un passante dei pantaloni. Infine osservò per l'ultima volta il cadavere per controllarne l'effetto dall'alto. «Addio, senza rancore!» sussurrò meccanicamente. Tornò in fretta verso l'uscita e chiuse il cancello senza inchiavarlo. Aprì il portellone posteriore del SUV e ripose il telo di iuta in un grosso sacco dell'immondizia di cui strinse con forza il laccio. Appena dentro l'abitacolo, prima di appoggiare i piedi sul tappetino di guida, si tolse le galosce e le gettò in un piccolo sacchetto a fare compagnia al primo paio di guanti in plastica trasparente che aveva utilizzato in casa. Poi si sfilò quelli che aveva indossato per portare il cadavere e li buttò insieme agli altri, aggiungendoci il silenziatore della rivoltella e le chiavi del cancello. Chiuso il sacchettino, lo ripose sotto il sedile del passeggero. Avviò il SUV e proseguì in salita. Avrebbe completato il tragitto verso casa, rientrando dall'altra parte. Una volta in città, percorse una strada di scorrimento ed entrò in un nuovo quartiere e, individuato un isolato contenitore dell'immondizia, vi gettò il sacchettino con i guanti di plastica e il silenziatore. In giro non c'era nessuno. Riprese la guida e accese la radio. Una voce concitata sembrava aspettasse proprio lui per informarlo che si profilava allo spettro dei supplementari. La notizia gli strappò un sorriso nervoso. «Siete tutti degli idioti, degli utili idioti! Come farai senza di voi?» proruppe con una risata isterica. Se ne andò lentamente alla ricerca di un altro contenitore dell'immondizia. Si fermò al quarto solo perché al terzo aveva notato in lontananza una donna che tentava di convincere il proprio cane infreddolito a fare i bisogni. Si immaginò il marito di quel a smagnare sul divano di casa in perenne lotta con il fantasma dei supplementari, un eroismo domestico che non aveva mai così apprezzato come in quella nebbiosa e più viginosa serata. Alla prima svolta sistemò per sempre anche il sacco di iuta. Ritrovò la sua villetta schiera unifamiliare così come l'aveva lasciata, con le serrande quasi completamente abbassate e la luce del salotto lasciata volutamente accesa in modo che qualche spiraglio filtrasse all'esterno. Il cancello elettrico del garage ebbe un movimento simile all'incedere di un gatto su una moquette, in un silenzio che Bruno interpretò come una complice a condiscendenza al suo omicidio. Una volta in casa ricontrollò minuziosamente il bagno e le stanze dove Gianni era passato. Tutto era in ordine, con la televisione che aveva lasciato accesa per nascondere la sua temporanea assenza. Si concesse una sigaretta e girò per i canali fino a quando incappò in un giocatore con un'orribile divisa giallo-canarino insaccherata del fango di 120 minuti di Aspralot che stava per calciare un rigore. «Se Jasper segna, è la fine!» mormorava il telecronista come se gli stesse espirando tra le braccia l'unico figlio. «E passerà lo straniero, cosa vuoi che sia!» commentò ironicamente Bruno. «Rete! Passa il Borussia!» Il figlio gli era morto. Bruno si godeva il fumo della sigaretta più buona della sua vita. Non era stato poi così difficile ammazzare un uomo, anzi, un amico. E tutte quelle storie sui rimorsi, poi, balle. Adesso era tutta discesa. Mancava solo di sistemare Marta, ma quella era la cosa più semplice e non l'avrebbe fatta da solo. Si accorse che sul balcone della billetta accanto alla sua il vicino imprecava all'aperto sull'esito della partita. Non aveva mai avuto grossi rapporti, anzi, non lo sopportava proprio, ma pensò bene di farsi vedere. Appena si affacciò con la sigaretta in mano, si accorse subito di essere stato notato e lo salutò con un gesto del braccio e del capo. Alle parole incomprensibili del suo vicino, si limitò ad allargare le braccia con fare dispiaciuto. «Tirode, eh?» murmurò a denti stretti. «Brutta testa di manzo! Sì, sì, saluta, saluta, che mi fa comodo. Vedrai che fine farai tuo cane se lo pesco a cacarmi di nuovo in giardino. Ho già comprato il velino per le polpette, altro che lamentarsi per un calcio di rigore. Te lo ritroverai schiattato davanti alla porta di casa. «Buonanotte, ingegnere! Proprio una serata storta!» Si sentì salutare mentre l'altro si ritirava. «Buonanotte, ragioniere!» rispose a voce alta. «A me veramente meglio di così non sarebbe potuta andare!» «Non sono mica un imbecille come te!» continuò sottovoce rientrando nel soggiorno, ridotto a trovarsi nel letto una moglie che assomiglia a una scialuppa di salvataggio. Chiuse il finestrone la serranda e si diresse nel retro cucina dove accese e spense velocemente la luce per tre volte. Era il segnale convenuto con Chiara, che di sicuro lo stava osservando da uno dei palazzi sul lato opposto del viale. Era andato tutto bene e la donna avrebbe deciso quando chiamare la questura per avvisare che il marito non era rientrato in casa. Ovviamente, sempre con tutta la calma possibile. Si lavò i denti e spogliatosi in fretta si infilò il pigiama e mise la sveglia alla solita ora. Era stata proprio una serata proficua e lui si meritava un buon sonno. Si girò su un fianco e dopo nemmeno un minuto il suo respiro si ingrossò e rallentò come il rombo lontano di un'auto che inizi una salita. I giorni che seguirono furono densi di piccoli avvenimenti ma alla fine tutti di poca importanza. Le indagini ebbero un corso veloce e le audizioni in questura e dal magistrato inquirente assomigliarono più a un rito che ad un'effettiva ricerca della verità. Lui ovviamente si mostrò addolorato e preciso nelle risposte alle solite ripetute domande e azzardò solo che da qualche tempo il suo amico gli sembrava un po' giù di corda ma senza che ci fossero motivi particolari tanto che lo stesso Gianni riteneva che fosse una stanchezza accumulata. Possibili problemi di salute o familiari o dipendenti dall'attività? No. No, li escludeva assolutamente. Tutto sembrava procedere normalmente almeno per quanto poteva saperne. Gianni del resto era un uomo tranquillo, schietto e senza grilli per la testa. Da quanto tempo non vedeva il suo amico? L'ultima volta che lo aveva visto era stato il mattino del giorno della sua scomparsa. Lo aveva incrociato come sempre mentre partiva di casa col suo furgone per andare a prendere il socio. Quella sera proprio no. Per la verità lo aveva contattato per telefono dopo cena ma Gianni era un appassionato di calcio e quella sera c'era un importante turno di coppa e il calcio era una delle poche cose che proprio non riuscivano a condividere. Sì, era rimasto in casa e anche lui aveva buttato un'occhiata alla partita ma distrattamente tanto che si era messo a leggere il giornale e si era pure appisolato di quando in quando. decisamente non poteva dirsi particolarmente dispiaciuto per l'eliminazione della squadra italiana e quella era una cosa che lo isolava dagli altri suoi amici ma il calcio proprio non lo appassionava più di tanto. Preferiva una bella passeggiata in montagna alla quale ogni tanto aggiungeva qualche passaggio in parete. Lui era un tipo semplice amante dei silenzi e della purezza dei panorami. Mentre partecipava a queste liturgie sentiva di disprezzare profondamente quanti gli rivolgevano le domande e trascrivevano a fatica le sue risposte al computer interrompendone spesso il racconto per stargli dietro con la scrittura. Più volte gli aiutò a trovare le forme lessicali migliori per verbalizzare gli interrogatori tanto da renderli docili come le pecore che gli capitava di incontrare sui pascoli durante le sue escursioni in montagna. In fondo passata la prima giornata di relativa apprensione il tutto si era risolto in una noia infinita. Il suo copione era stato inconsapevolmente seguito per filo e per segno dagli inquirenti e il caso era stato anch'esso prontamente indirizzato verso il suicidio per motivi sconosciuti forse da rintracciarsi in una subdola depressione spuggita di più. Marta silenziosa come sempre era chiusa nel suo dolore e si era dedicata a Chiara per sostenerla in quel passaggio tragico della sua esistenza. Lui stesso era felice di quella svolta che gli permetteva una relativa libertà e facilitava i rapporti fra le donne cosa che sarebbe potuta risultare molto utile per quello che aveva in mente. una decina di giorni dopo il ritrovamento del corpo di Gianni Bruno decise che era opportuno rompere gli indugi e chiamata Chiara nel suo studio con la scusa di farsi portare dei documenti catastali tentò di forzare la situazione. Non pensi sia ora di vederci da soli magari stasera a casa tua? No Bruno non mi sembra proprio il caso tutto sta andando per il meglio e credo sia preferibile continuare così ancora per qualche tempo in fondo si tratta di un piccolo sacrificio in attesa di completare l'opera un piccolo sacrificio per quanto tempo ancora? alzò la voce battendo un pugno sulla scrivania per il tempo che sarà necessario tentò di tranquillizzarlo la donna non possiamo rovinare tutto per impazienza avremo modo di rifarci vedrai Marta cosa ti dice quando siete sole? i soliti discorsi te li puoi immaginare no? no non riesco ad immaginarmeli riprese Bruno con tono acido che debbo tenermi su che debbo distrarmi che sono ancora giovane e posso rifarmi una vita insomma le cose che si dicono in casi come questo povera Marta è tanto dolce e carina ma è così noiosa mi spieghi come hai fatto a sposarla? questa poi proprio tu vai a parlare che ti hai rimessa con quel pesce lesso mi piace quando ti arrabbi non capisci che stavo scherzando fece aggiustandosi maliziosamente la gonna non so come ti vada di farlo piuttosto cerca di stringere per quella gita in montagna magari con una scusa che devi distrarti potresti proporgiela tu io proprio no si insospettirebbe siete voi gli appassionati delle cime inviolate fece con enfasi ironica io ho le vertigini anche se salgo su uno sgabello per sistemare i panni nell'armadio dipendesse da me passerei la vita al mare a fare bagni e prendere il sole non preoccuparti sarà lei a propormelo vedrai beh che si sbrighi allora altrimenti fallo tu e comunque sappi che con me la montagna dovrai fartela piacere aggiunse in tono imperioso ma si vedrai che me la farò piacere rispose tranquillamente comunque stasera Marta ha deciso che mi verrà a trovare dopo cena per farmi compagnia vedrò di affrontare l'argomento magari con la scusa che stare in casa mi deprime che ne dici dico che sarebbe ora anche se non capisco per quale motivo non ti abbia invitata da noi veramente sono stata io a declinare l'invito sia perché Marta non è una gran cuoca sia perché mi sento piuttosto stanca ma non c'è stato verso di convincerla mi preparo a un'altra serata noiosa hai ragione non ti invidio beh me ne vado a casa a farmi una doccia ho avuto una giornata pesante mi manchi da matti anche tu ma sarà ancora per poco e lo salutò mandandogli un seducente bacio da lontano quando Marta tornò a casa era quasi mezzanotte lui era sprofondato in poltrona davanti al televisore che trasmetteva uno dei soliti reality anche se il modo in cui si scosse all'arrivo della moglie gli fece sospettare di essersi addormentato che diavolo hai combinato fino a quest'ora ero da Chiara abbiamo parlato di che ti preoccupi io di niente è che forse quella poveretta avrà bisogno di riposare non credi anzi non la smetteva più di parlare e la cosa più impensabile è che credo di averla convinta a distrarsi praticamente ho combinato una gita in montagna per domenica prossima sempre che a te faccia piacere di accompagnarci mi sorprende ma mi fa piacere avevo quasi deciso di andarci da solo Marta però non è attrezzata per quel genere di camminata le presterò io quanto le occorre abbiamo anche lo stesso numero di scarpe piuttosto dove possiamo portarla io direi di fare un'escursione facile breve ma in un posto che non sia troppo frequentato facile breve poco frequentato vediamo potremmo andare al pizzo brocco che ne dici è un bel posto e non è neanche un lungo tragitto ma c'è un passaggio impegnativo non saranno sieno dieci metri un po' difficili ma quelli si possono fare anche appoggiandosi alla parete e poi lì non troveremo nessuno specialmente se potessimo andare di lunedì e il lavoro a Marta a volte non so se ci fai o ci sei sono o non sono il padrone di me stesso sarò libero sì o no di non aprire lo studio per un giorno sposterò gli appuntamenti anzi ci penserà Chiara perché domani l'avviserò io stesso al lavoro quindi rimaniamo d'accordo per lunedì prossimo oltretutto le previsioni del tempo sono più che discrete Marta annui lo baciò sul capo e si ritirò a dormire lamentandosi di una forte emicrania lui rimase in poltrona indifferente si accese una sigaretta prese il telecomando e iniziò il solito zapping di fine serata una sorta di obbligo sindacale per giustificare l'acquisto di televisore e parabola di nuovissima generazione ripeteva i gesti meccanici col pollice senza nessuna convinzione ancora tre giorni pensò e poi ogni cosa sarebbe andata a posto erano in cammino da un'ora e mezza quando Bruno si fermò ad allacciarsi lo scarpone da trekking mentre Chiara lo stava lentamente superando le fece un cenno nascosto e quella si fermò ad attenderlo Marta era avanti all'oro di una decina di metri è da un pezzo che non si vede anima viva tra pochi minuti saremo a destinazione io mi accosterò a Marta con la scusa di aiutarla e la spingerò nel precipizio se vuoi puoi anche non seguirci di pure che non te la senti no non mi lascierebbe da sola e così andrebbe tutto a monte a monte buona questa la interruppe Bruno con un riso soffocato Chiara lo guardò in un modo che gli spense il buon umore di colpo facciamo quello che dobbiamo e facciamolo in fretta lo apostrofò secca la donna io seguirò Marta e tu mi starei dietro a un certo punto quando saremo lì ti verrà in mente di farci una foto perfetto voi vi metterete con la schiena verso il precipizio e non precipitare tu con la tua solita impazienza che vuoi dire che ci farai una vera foto vedo Marta un po' nervosa mi ha appena rivolto la parola durante il tragitto e non ne so il motivo non vorrei che sospetti qualcosa ma che dici dico che è il caso di tranquillizzarla di metterla a suo agio e una foto è un buon modo per farlo sì e poi magari ci fermiamo pure in un rifugio mangiamo salsicce e fagioli ci facciamo qualche buon bicchiere giochiamo a 3-7 col morto e torniamo a valle ubriachi sorreggendoci come vecchi amici ascoltami invece di dire sciocchezze ti verrò accanto per vedere come sia venuta la foto tu me la mostrerai a quel punto io chiamerò tua moglie per dirle che siamo venute benissimo lei ci raggiungerà io mi scanserò lentamente e tu potrai fare quello che sai diabolica sei diabolica non sai quanto ti desidero in questo momento Marta si era rimessa in marcia a passo spedito e Bruno dovette quasi arrancare per raggiungerla giunti che furono al punto indicato si misero in fila indiana con Marta in testa Chiara in mezzo e Bruno a chiudere la marcia circa a metà del tratto Marta si fermò ad osservare lo stupendo lo stupendo panorama guarda che meraviglia Chiara pensi che le tue vertigini ti daranno il permesso per farti una foto con me Chiara annui senza parole e si accostò timorosamente all'amica già in posa per la foto sull'orlo del precipizio cingendola strettamente su un fianco Bruno tolse il coperchietto alla compatta digitale puntò l'obiettivo e scattò probabilmente senza nemmeno inquadrare le due donne fatto esclamò tutto giulivo fammi vedere com'è venuta fece impaziente Marta Bruno le raggiunse e si trovarono tutti e tre sul bordo dell'orrido Chiara guarda siamo bellissime disse togliendo la digitale al marito ne dubitavi forse rispose quella arretrando di due passi verso la parete siete davvero la coppia più bella del mondo aggiunse raggiante l'uomo Marta fece un passo indietro e assestò un calcio poderoso al basso ventre dell'uomo che si piegò su se stesso barcollando sull'orlo del precipizio la donna fece per assestargli un altro colpo ma non ce ne fu bisogno l'uomo cadde nel vuoto scivolando di fianco sulla roccia friabile del bordo Marta lo guardò fisso negli occhi e gli lesse un misto di sconcerto rabbia e paura Bruno precipitò con un'imprecazione che si tramutò in urlo dopo pochissimi secondi un colpo sordo lo interruppe le donne si sporsero a vedere il corpo ormai inerte che rotolava nel precipizio qua e là urtando qualche sperone roccioso infine quella strana macchia di colore sparì nella folta selva sottostante ci furono momenti di un totale silenzio interrotto dal verso stridulo di un maestoso rapace che sorvolava la zona che peccato non ha potuto vedere la foto fece Marta con macabra ironia mentre cancellava la foto sulla digitale preferisco l'originale rispose Chiara stringendo l'assi e baciandola appassionatamente ehi attenta così rischiamo di raggiungere tuo marito le donne si accostarono alla parete e ripresero a baciarsi a lungo ora pensiamo al ritorno vediamo un po' se qui c'è campo fece Chiara prendendo il telefonino no non c'è come immaginavo meglio così ora ce ne torniamo senza fretta a valle e appena possibile daremo l'allarme te la senti di fare la parte della moglie a Fran proprio no fece l'altra ridendo beh dovrai farla non ci riesco sono troppo felice prova a pensare al giorno in cui ti lascerò per un'altra ne saresti capace sul serio e gli occhi le si erano già velati di lacrime così va meglio sei perfetta nella parte dimmelo saresti davvero capace di farlo l'altra la guardò con tenerezza infinita solo se non piangerai una volta che saremo a valle piangerò disperatamente vedrai brava ci penserò io a consolarti stanotte ma sarà il caso certo chi se non la migliore amica può essere in grado di starti vicino in un'occasione come questa rispose battendosi teatralmente la mano sul cuore ripresero a baciarsi mentre il pallidissimo sole di fine inverno stava velocemente cedendo al crepuscolo e ora che faremo mormorò Marta del nostro futuro intendi l'altra annui mordendosi delicatamente il labbro inferiore venderemo le nostre case e ci godremo i soldi dei nostri cari estinti pensa che salasso se fossimo dovute ricorrere alle separazioni e ai divorzi ci saremmo ritrovate con un pugno di mosche in mano così invece grazie a quel cervellone di tuo marito possiamo goderci i loro patrimoni per intero se penso che l'idea non ti convinceva all'inizio no no ammetto che avevi pienamente ragione siamo passate dal matrimonio al patrimonio in fondo cambia solo una consonante e però riprese non mi hai ancora risposto su cosa faremo della nostra vita io non mi ci vedo a vivere qui e io neppure dolcezza ce ne andremo a vivere altrove in un posto meraviglioso che conosco rispose chiara rassicurante dove al mare fece trionfante l'altra mentre la valle si riempiva all'eco delle loro risate a vivere altrove a vivere altrove a vivere altrove